Ben trovati! La piccola mente, la mente, non può darti la felicità. Non troverai mai la felicità, la pace, nella piccola mente. Perché non è quella la sua funzione. Questo è un grande equivoco che si ha e che causa di molta sofferenza, quindi l'identificazione con la mente. Nella piccola mente non troverai mai pace, mai quiete, perché non è quella la sua funzione. Non sarà mai in pace la piccola mente. Non ti darà mai la felicità, perché non è quella, non è fatta per quello. Non è fatto per quello, capisci? Non ti dirà mai che è arrivato il momento per gioire. Mai! Al contrario, ti moschierà sempre tante cose che non vanno. Allora, ti invito ad osservare questo grande equivoco. Quanto sto cercando pace nella mente. Una mente, una mente in pace. Non è possibile questo. Non è lì che si trova la felicità, la pace. Felicità e la pace iniziano ad emergere quando percepiamo la nostra vera natura. E allora, quindi la consapevolezza e felicità e pace. E allora, si può acquietare la piccola mente. Si può calmare. Si può fare in modo che con la consapevolezza la piccola mente sia più in accordo con il cuore. Questo si può fare. Si può acquietare la piccola mente. Si può portarla nel cuore. Si può portarla nel cuore. E comprendere che è uno strumento che abbiamo a disposizione. Non la via per trovare la felicità. Da lì non troverai mai la pace, la quieta e la felicità. Nulla. Possiamo solo imparare a quietarla. Calmarla, portarla nel cuore. Farla scendere nel cuore. Più in comunione con il cuore. Questo è un grande equivoco. Anche nei disagi, nei disagi psicologici. Perché c'è una forte identificazione con la mente. È una forte credenza che... Che nasce dall'identificazione che la mente deve darci la pace. Non è così. Non troverai mai la pace da lì. Che la pace sei tu. È conoscere e percepire la nostra vera natura. Ciò che siamo è la pace. E la mente è solo uno strumento che abbiamo a disposizione. Allora iniziare a contemplarla così, per quietarla, calmarla, renderla più armoniosa. Far scendere la piccola mente nel cuore. Perché tutto poi è perfetto, eh? Ma non posso trovare la pace dalla mente nella mente. Allora nel silenzio. Proprio pace. Deve imparare a... Accordare la piccola mente con il cuore. Con il silenzio. Questa è la pace. Quello strumento, chiamato mente, che abbiamo a disposizione, potrà essere più... più armonico. Quando smettiamo di pretendere che ci dia qualcosa che non può darci. Quando smettiamo di identificarci nello strumento. Un abbraccio. A presto.